Ieri è stata approvata una variante di bilancio importante, quali sono i capisalti di questa operazione? Sì, ieri sera abbiamo approvato l'ultimo assestamento di bilancio per il 2017 in Consiglio Comunale dell'importo di quasi 3 milioni di euro, quindi sono soldi importanti che mettiamo a disposizione della nostra città. La parte del leone la fanno le opere pubbliche, i lavori pubblici e anche i servizi sociali. Infine per quanto riguarda le spese correnti, le spese del bilancio corrente, recuperiamo 60 mila euro per le società sportive che gestiscono impianti e qui andiamo a sanare quasi totalmente quello che era stato un taglio iniziale dovuto ad una previsione di bilancio a ribasso e recuperiamo tra le altre cose anche 50 mila euro per la Fondazione Teatro che così può chiudere tranquillamente anche per quest'anno il proprio bilancio. Infine prevediamo già per il 2018 l'importo di 130 mila euro per l'ente carnevalesca che ugualmente è in pieno lavoro per organizzare appunto il carnevale che sarà molto presto perché la prima data sarà il 28 gennaio e quindi chiaramente anche per loro abbiamo già messo da parte la somma stanziata tutti gli anni.